ciao a tutti amici e amiche di quinta dimensione letture eccoci qua bentornati e benvenuti ai nuovi invito chi non l'ha ancora fatto iscriversi al canale e attivare la campanellina allora ragazzi ragazzi oggi andiamo con un interattivo richiesta diciamo che guardiamo oggi le persone che si sono allontanate chi si è allontanato da te e quindi stai guardando guarderai per chi si è allontanato mi raccomando perché in coppia non vale quindi si guarda oggi riguardo questo allontanamento se questa persona diciamo ha dei sentimenti e se ci sarà un chiarimento quindi guardiamo queste due cose di questa persona diciamo vediamo ancora cosa pensa di te insomma sentimenti che ha e anche se per quelli che devono vorrebbero anche chiarire se c'è all'orizzonte entro due barra tre mesi non di più se ci sarà un chiarimento allora io ho preparato già un oracolo ok cominciamo con una stesa oracolare per quanto riguarda le cing e la saggezza cinese le stese sono tre quindi facciamo la prima con la piuma celeste azzurra la seconda stesa un fucsia diciamo e la terza il viola scegli pure distinto solo è allora e vediamo questa persona che cosa ci risponde da qua poi mettiamo anche dopo gli oracoli tarocchi mettiamo i messaggi anche di questa persona oggi facciamo più che altro rivolta al maschile facciamo in perché me l'ha richiesto insomma un'energia femminile oggi mi mantengo su una per rispondere al diciamo all'energia maschile cioè riguardo l'energia maschile ragazzi però adesso voglio vedere anche perché sto guardando scusate un attimo il anche gli oracoli si lo prendo anche il femminile allora vediamo prendiamo anche il femminile quindi questi qui ragazzi è sempre i miei i messaggi da lei quindi rispondiamo anche mettiamo un lui o un lei si facciamo così allora facciamo un lui o lei e poi vediamo allora andiamo intanto sposto partiamo la prima stesa ok la piuma blu la mettiamo tra le nostre belle piramidi piene di energia vediamo allora intanto questa persona ok vediamo come come si prospetta questa vediamo cosa ci dice è della situazione tra voi ok e anche di questa persona vediamo se butta più sulla persona o su di voi insieme vediamo allora stesa 1 vediamo un attimo questa persona numero 37 famiglia potrebbe essere anche un 73 qui abbiamo raffigurato come vedete un quadretto del diciamo una una famiglia quindi magari la stesa 1 sta guardando più che altro insomma chi ha avuto con la persona che stai pensando comunque un rapporto familiare vediamo nello specifico l'oracolo dice questo esagramma parla della famiglia è la voce di un figlio che lamenta la sorte della madre un giorno tenero ramo ora fatta fascina spinosa per la fatica di allevare figli ingrati l'oracolo invita a vedere il senso del proprio amore profondo in seno alla famiglia ok qui c'è stato qualche problema allora abbiamo capito qualche problema magari familiare stai pensando a insomma un uomo che magari si è allontanato o c'è stato proprio una separazione oppure c'è un allontanamento che non è diciamo ufficiale quindi che non è stato ufficializzato tramite ok uffici competenti quindi legali separazioni divorzi eccetera molti di voi credo che qua non abbiano ancora ufficializzato la cosa per chi l'ha ufficializzata vale la stessa cosa oracolare quindi qui c'è qualcosa proprio anche sulla difficoltà che magari si sono passate qua nella uno anche nella crescita dei figli forse alcuni di voi non dico tutti però hanno anche avuto dei problemi magari riguardo l'educazione di qualche figlio o c'è qualche figlio qua dentro che ha dato dei particolari problemi insomma alla mamma o al padre quindi comunque qua qui ragazzi si parla di famiglia è qua la parola chiave è comunque la famiglia quindi qui la uno allora se sei un single o una single che non credo che sia la stessa per te perché già sento che andiamo a guardare questo tipo di cosa allora andiamo a vedere adesso a livello proprio di coppia invece al di là che ci ha detto la famiglia però vediamo vediamo un po questa persona se ci dà un sentimento per te che cosa ci dà nei tuoi confronti e vediamo chi ha scelto chi ha scelto la piuma azzurra questa persona a cui pensa vediamo un po com'è qui la situazione sentimentale emozionale vediamo perché ha scelto la stesa 1 piuma azzurra com'è qua la situazione se svelate l'una all'altra il vostro seppio nascosto rafforzate il vostro legame giocosità qua è mancato un aprirsi qua probabilmente è mancato allora che sia la persona che tu stai pensando che è stata una persona comunque fredda una persona che con te non si è aperta o forse potreste essere anche entrambi ragazzi ricordo a tutti sempre è un interattivo collettivo generale ok quindi potrebbe essere anche il reversibile io parlo di questa persona ma in realtà sto parlando di te è tutto possibile ok quindi qui insomma o l'altra persona o tu o entrambi non è stato svelato il seppio nascosto perché dice questo perché svelando questo svelando la profondità di questo sentire di questo sentimento è di chi sei tu aprirsi completamente rafforza i legami ok gli dà proprio il marchio gli dà il sigillo ok è un'esperienza più completa un'esperienza più profonda quindi qua ci dice che è mancato questo quindi potrebbe essere o la persona a cui stai pensando bene o insomma ecco anche tu volendo o anche entrambi anche entrambi vediamo un po qua com'è la situazione vediamo la persona che cosa pensa di te o che cosa prova per te vediamo cosa pensa di te o prova per te vediamo questa persona che si è allontanata è sempre deve essere questo è su questo interattivo la sofferenza questa persona è però ancora di nuovo con questo non aprirsi con questo trattenersi ecco e qua tra l'altro qualcuno allora a fondo il fondo tra l'altro stavo notando dieci di spalle quando mi dispano insomma ragazzi qua sofferenza è qua sofferenza allora la persona potresti essere anche tu in questa condizione non è detto che sia per forza la persona che stai pensando o tu o la persona io credo anche la persona che stai pensando qui però ragazzi questa è una sofferenza voluta nel senso che è stata cercata io qua con queste carte non posso dire che è capitato per caso nel senso che qui ci sono stati sbagliati veramente dei comportamenti perché comunque delle persone che si trattengono non danno non aprono ok il dare il dare qua il dare insomma è andato un po quel paese e in questo momento permane una sofferenza la persona comunque ci sta male ok se quello che stai pensando stai pensando sei curiosa curioso di sapere la persona in questo momento ci sta male ok per questo allontanamento questa separazione che sia quello che è per ognuno di voi diverso però c'è anche un motivo per tutto questo io vedo proprio qua nella 1 che non è un caso ok ci sono stati proprio dei comportamenti che potevano essere evitati ok tra l'altro non per tutti per una parte di voi qualcuno se n'è andato per una terza persona non sarà per tutti ma per qualcuno si ok c'è di mezzo anche qualcun altro vediamo se ci sarà un chiarimento vediamo se chiarirete se chiarirete vediamo per la stesa 1 la piuma azzurra chiarirà ci sarà un dialogo chiarificatore qua sulla 1 ci sarà questo dialogo vabbè intanto vi dico che il percorso allora è un dialogo io qualcosa posso anche posso anche vedere con questo bell'asso di coppie con questo bello potrebbe essere anche un incontro però non mi fiderei più di tanto allora questo dialogo io credo più che ci sarà quello che è successo credo che era da vostro percorso con le stelle nel modo più assoluto però io non mi fido di questo dialogo te lo devo dire 5 disparo io non mi fido perché o la persona che tu stai pensando o anche tu qui c'è questo blocco forte comunque non ci si sblocca a livello personale nell'aprirsi vedo che permane perdura dell'orgoglio perdura una persona che deve vincere e così non si va da nessuna parte qui non è non c'è una cosa sana qua non c'è ci sono dei comportamenti fatti proprio per recuperare per restaurare ma seriamente ma seriamente veramente un rapporto qui se ancora ci permane questo ragazzi qua c'è in una coppia non si va così non è possibile quindi se il dialogo deve essere per insomma per arrivare ad un anteggiamento come questo cioè di orgoglio di come dire porsi così con questo no mento questo mento alzato con supponenza e cioè fate voi ragazzi il libero arbitrio è sempre il vostro però io sicuramente io allora io qualcosa vedo è qualcosa vedo qui vediamo anche adesso nel senso di parlare di chiarire vediamo un attimo anche i messaggi vediamo oracolare vediamo i messaggi però non credo che sia un costruttivo è questo poi fatemi sapere ragazzi nei commenti se poi parlerete anche più in qua scrivete perché io parlare è un conto ma dipende chiarire qui non credo che sia un chiarimento buono vediamo un po qua cosa ti direbbe questa persona vediamo l'energia maschile cosa direbbe cosa direbbe qua l'energia maschile eventualmente cosa direbbe cosa direbbe mi sento intrappolato l'energia maschile intrappolato si quindi la persona si è incastrata volendo anche abbastanza da sola devo dire vediamo ancora ora non posso qui ragazzi tanti qui 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 la persona sta con qualcun altro è se il mio amore più grande però ecco si se il mio amore più grande però sto da un'altra parte ok bene nel senso ho capito qua è una persona che non so allora questa è una persona che non sa decidere nella vita una persona che non sa prendere una posizione quindi valuta bene se un riapproccio di questa persona ti convenga ok perché l'ora non posso e sto in trappola però amo te però credo che tanti qua ci hanno anche terze persone e però c'ho l'orgoglio e però non mi apro allora qui qui questa è la stesa così ragazzi ve lo dico le carte portano tutte una spiegazione di questo tipo quindi al di là della curiosità di venire qua a vedere e va bene perché qui intratteniamo leggiamo cerchiamo di star sereni e di fare delle letture serene insomma in serenità però quando parliamo poi di cose serie ok a parte non dovete basarvi sulle carte però qua ci penserei cento volte ok togliamo un attimo il maschile vediamo a chi a chi interessa una donna a chi interessa una donna cosa direbbe questa energia femminile a chi ascolta cosa direbbe questa energia femminile invece vediamo le energie delle donne energia femminile piuma azzurra non meritavo quello che mi hai fatto sparisci dalla mia vista e non posso vivere senza di te allora qua diciamo l'energia femminile è un po' così eh allora l'energia femminile ce l'ha quella energia maschile oppure potresti essere tu che pensi queste parole perché è reversibile quindi tu magari diresti all'uomo che se n'è andato che non meritavi insomma queste frasi qua ok però se tu sei comunque un uomo o donna che interessa ok e qui per una donna la stessa cosa quindi qui c'è una donna che comunque in questo momento non ne vuol sapere di tornare però sente in cuor suo sente dentro di lei che non può vivere comunque senza di te però questo non basta ok per un eventuale avvicinamento di questa persona va bene c'è anche un po' di rabbia quindi in questo momento la porta da parte dell'energia femminile donna è chiusa ok da parte di diciamo delle donne dell'energia femminile oppure la tua cioè sei tu donna che ascolti ok che diresti questo all'altra persona allora qua vediamo un po' un consiglio vediamo un consiglio per chiudere un messaggio divino canalizzato dai miei oracoli eh per chi ascolta la stesa 1 la piuma azzurra cos'è che deve sapere che consiglio c'è per chi ascolta ora ora ti sto mandando intuizioni 4 4 4 connessione reami superiori benissimo allora qua hai delle intuizioni che ti arrivano in modo subliminale ok in modo invisibile da entità ok dai tuoi angeli o potrebbero essere anche i tuoi defunti o comunque entità di luce a te vicine anche diverse ok di diverso tipo ma anche il numero in una certa quantità non è detto che sia una sola quindi qui c'è una connessione presente ci dice con i reami superiori quindi vuol dire che qualche intuizione che ti viene io ti posso dare questa aggiunta in più allora quando un'intuizione non è di questo mondo ma è da un altro ti accorgi come ti accorgi perché ti arriva più di tre volte quando c'è la stessa idea la stessa cosa la stesso numero che ti compare quando c'è la stessa frase che legge in continuazione la cosa ripetuta un'idea che hai in testa che ti canta sempre quella ed è più di tre volte di solito è un'intuizione ok di un'altra dimensione ok di un'entità di un'energia elevata di una vibrazione più alta della nostra va bene quindi qua fai caso eh cerca di fare caso alle intuizioni stessa 1 perché c'è qualche magari anche consiglio su come poterti comportare ok su questa situazione che ti sta a cuore magari eh allora stessa 1 piuma azzurra lasciami un like al video iscriviti al canale io vado avanti ti aspetto in un prossimo interattivo chi vuol parlare con me vedi l'email in sovraimpressione comunque sia scendete nell'info box allora procediamo seconda stesa ok con la piuma fucsia andiamo allora vediamo anche per te quindi l'oracolo dell'amore l'oracolo della saggezza cinese dell'I Ching antichissimo vediamo per te ok quindi questa persona vediamo se ci dice anche eventualmente che cosa prova ancora ok cosa pensa e poi vediamo se c'è un chiarimento intanto apriamo l'oracolo per te c'è il numero 28 o 82 sotto pressione ok qua c'è la corda molto tesa guardate che carta insomma qua è anche colore no tutta scura questo cuore che sta tra l'altro tra due massi questi massi se cadono sto cuore fa una brutta fine ecco quindi già diciamo a livello iconografico a livello comunque già di immagine non è una carta che splende insomma non so come dire no ecco una cosa del genere allora qua c'è un po' la pesantezza di una situazione che ti vado a leggere esattamente dall'oracolo che cosa significa la situazione è gravissima le difficoltà sembrano insuperabili la posizione in cui ti trovi è a dir poco disperata come uscirne conserva una serenità gioiosa non importa quanto il pericolo sia grave radicati nella fiducia questo è il momento per mettere a fuoco il tuo cuore pulsante ok qui tanta serenità provaci aiutati con qualcosa che ti fa stare bene tu sai che cos'è può essere una preghiera può essere una recitazione di qualcosa può essere quello che vuoi una lettura un andare a fare due passi a sentire l'aria fresca qualsiasi cosa ok piuma fucsia allora se vuoi un po' di serenità cerca nel mio canale perché il lavoro personale qua ce ne sta tanto in questo canale cercati qualche decreto cerca qualche recitazione che propongo io di fare per alleggerirci aumentare le nostre vibrazioni eccetera sfogliati pure tutti i video o comunque fai una pratica tua non è necessario questo che ti dico io cioè trova tu il tuo modo per trovare la tua serenità metti a fuoco il tuo cuore pulsante cioè forse qui qualcuno non sa neanche bene che cosa prova una parte della 2 sento qui della stessa 2 perché dice di mettere a fuoco ciò che c'è nel cuore quindi forse tanti sono un po' invischiati in qualche situazione non poco non molto chiara quindi poco chiara magari che stanno pensando una persona che non è ufficiale o terza persona ok o tu sei la persona non ufficiale di qualcuno insomma ricordo a tutti è un interattivo è un collettivo quindi comunque potresti ritrovarti in parte tutto insomma quindi dipende dipende quindi qui è tutto reversibile perciò insomma la situazione per la 2 è arrivata al limite ok ma lo vedevamo con questo no con questa oscurità ok di questo di questo oracolo quindi allora qua il consiglio è di far chiarezza trova un po' di pace e serenità urgente urgente qui dice che la situazione è molto grave quindi urgentemente ritirati in te stessa o in te stesso va bene a cercare di trovare insomma un po' come dire di qualcosa che ti possa anche far trovare un po' di pace qui la pace te la devi cercare te la devi trovare nel modo più assoluto vediamo vediamo questa persona vediamo un po' com'è la situazione qui vediamo un po' qua con gli angeli del cuore stessa 2 piuma fucsia vediamo vediamo un po' com'è questa persona se ci dicono anche o sentimenti o comunque pensieri che ha vediamo qua com'è la 2 vediamo fiducia e qui richiede fiducia esattamente quello che dicevamo qua fiducia c'è proprio confermato è fiducia quindi qui probabilmente è grave ma non è perduta è questo mi sento proprio di dirtelo perché ci vuole tanta fede questa è ragazzi la stessa 2 è un atto di coraggio veramente qua dentro se te la senti ok è un passo grande veramente di coraggio quindi qua dentro niente è perduto è grave ok ma non è perduto mi sento una cosa di speranza qua dentro quindi dipende molto da come te la giochi ok cara anima che mi ascolti è chiunque tu sia qui dipende molto da come giochi come ti muovi vediamo un po' la persona la persona qui pensi vediamo qui com'è se ha pensiero per te vediamo se ha pensiero perché ascolta la stesa 2 la piuma fucsia stesa 2 che sentimenti provo che pensieri ha vediamo che cosa preferiscono quale carte dirci per questa persona allora qui è nascito 2 ecco qua sempre il bivio e stanchezza estrema questa persona è molto stanca ecco qua sofferenza ma vabbè litigi cioè lascio stare chiudo tutto ragazzi la stesa 2 si effettivamente qua avete chiuso qualcuno ha chiuso definitivamente qualcuno sta lì per chiudere o comunque si è tutto molto fermo tutto molto bloccato non c'è per il momento la via d'uscita la persona in questo momento non ci dice se ha dei sentimenti sicuramente dei pensieri ma vede tutto nero questa persona questa persona è molto indecisa c'è anche un due di bastoni cioè comunque sia una persona che vorrebbe tentare qualcosa è con due di bastoni però la vedo molto bloccata stanca sofferente anche si arrabbia anche questa persona in un'energia pessima devo dire bene potresti essere anche tu è tutto reversibile però però la sofferenza di cuore la prova quindi sicuramente un sentimento quantomeno c'era o c'è ancora perché se no non ci sarebbe la sofferenza d'amore se non c'è l'amore no allora vediamo vediamo se c'è questo chiarimento se si sblocca vediamo un po' se si sblocca la 2 la piuma fucsia prossimi 2 barra 3 mesi eh vediamo si sblocca qua la situazione la 2 vediamo vediamo un piccolo sblocco sì sicuramente a su di bastoni allora qua un piccolo sblocco c'è però non è definitivo allora questa è una cosa seria devo dire sulla 2 stiamo sulle cose molto serie devo dire allora qua un chiarimento per risponderti alla domanda un qualcosa lo vedo però poi vedo un ripiombare comunque in una lontananza comunque o siete già proprio lontani voi fisicamente o c'è una lontananza proprio di persone cioè nel senso lontane col cuore lontane anche a livello proprio di comunicazione qui ci sarà del silenzio ancora c'è in questo momento per tanti quasi tutti ma continuerà nonostante una notizia un inizio di qualcosa che vedo di buono ok che potrebbe essere uno sblocchetto uno sblocco uno sblocchettino diciamo ecco però insomma non vedo la risoluzione totale e definitiva è quello che voglio dire ok è quello che io mi interessava vedere qua il chiarimento abbiamo detto il chiarimento qualcosa si va a chiarire sì qualcosa si va a chiarire però qua è ancora presto ok è ancora presto per dirlo credo quest'estate potrebbe andare ancora un po' così potrebbe andare ancora un po' così non vedo proprio che se ne esce già adesso così paio di mesi via eh vediamo un po' perché aspetta un messaggio vediamo un po' chi sta diciamo chiedendo per un'energia maschile un'energia maschile vediamo un po' questa persona che cosa direbbe vediamo un po' se ce lo dice qua qualcosa di più ecco questa persona ti spieti nascosto sei il mio occhio ad ho fisso riguardo spesso le tue foto questa persona è molto nostalgica vedi questa energia maschile ci parla di una nostalgia di una mancanza controlla anche quello che fai energia maschile ti pensa tantissimo è proprio una fissazione e riguarda persino le foto quindi questa energia maschile non è perduta ok come dicevo sin dall'inizio perché qui ci vuole tanta fiducia e tanto lavoro sicuramente ancora presto per questi due tre mesi dire di un chiarimento proprio di quelli eh io credo che ci sarà ancora del silenzio nella due però la vedo una stesa positiva cioè la vedo una stesa che promette bene devo dire perché perché qua è la stesa delle persone che comunque lavoreranno eh se tu ci lavori qua dentro io credo proprio dagli oracoli da tutto quello che posso fare il diciamo anche come sensazione mia come sensitività mia io credo che qua si possa recuperare eh qua si può recuperare perché a livello di cuore questa persona comunque sono sicura che ce l'hai eh dalla tua vediamo perché aspetta un'energia anche femminile a livello di comunicazione cosa direbbe l'energia femminile che ascolta eh potresti essere tu donna che senti che stai ascoltando o potresti essere tu donna o tu uomo che pensi ad una donna quindi comunque questa è un'energia che riguarda il femminile togliamo il maschile allora vediamo il femminile cosa dice ecco lasciala e torna da me va bene lo so che a volte non sono riuscita a capirti quindi qua c'è anche un mea colpa e per finire qua sparisci dalla mia vista però quindi qua ci dice da una parte lasciala e torna da me qui c'è la donna un po' diciamo un po' e un po' è una donna che per una buona parte di se stessa vorrebbe anche tornare quanto a quelle diciamo le giornate sue ti direbbe lasciala ok quindi qua si parla anche di terzetti eh e quartetti non per tutti è chiaro ragazzo interattivo eh per quelli di voi che sono in relazioni non sempre ufficiali diciamo non proprio chiare la parte femminile vorrebbe che tu lasciassi ok quell'altra donna oppure tu che ascolti che vuoi che l'uomo che ti piace insomma che ami o quello che è che lasciasse la persona insomma stesse con te no poi qua ci dice comunque lo so che a volte non sono riuscita a capirti qua fa anche un mea colpa però d'altra parte c'è insomma anche una buona parte di questa donna che ti dice sparisci ok quindi insomma questa donna è un po' così eh c'è una donna un po' ancora turbolenta devo dire nelle decisioni non sa bene che cosa vuole perché a volte vorrebbe ripristinare a volte ti direbbe proprio di no quindi è un po' così così però ammette che a volte magari non c'è stata molta comprensione da parte sua eh vediamo infine per te un consiglio eh vediamo un consiglio stesa 2 piuma fucsia un consiglio qual è la stesa 2 piuma fucsia cosa deve fare qua che consiglio c'è fate aiutare chiedi guarigione per questa situazione eh ultimamente esce spesso 20 02 2002 intuizioni in arrivo allora qua ci dice che probabilmente ci sono persone coinvolte che sanno di questa situazione tu sai magari a chi potresti chiedere aiuto chiedi una guarigione anche a livello spirituale non solo di persone fisiche perché c'è qualcuno di voi qua dentro sento anche che non sa nessuno niente di questa storia quindi qua ti dice anche di chiedere una guarigione ok a livello spirituale intendiamo qua eh quindi chiedi in modo neutro che questa situazione si risolva non dire eh non non dare il desiderio preciso perché a volte funziona così eh ecco anche perché a volte mi dite poi anche in privato eh questa cosa non si avvera a quello si avvera a me non si avvera perché perché non è in linea con il piano divino perché non è da tuo karma se una persona non la devi avere non puoi insistere di avere per forza quella persona qui ci dice di chiedere una guarigione neutra questo significa il neutro significa che potrebbe essere perdere per sempre questa persona tu devi essere pronta o pronto ad accettare anche questo se vuoi essere una persona evoluta una persona in fase di crescita personale ma quella veramente bella ma quella veramente seria ma quella che veramente ti innalza a confronto degli altri eh queste vibrazioni alzale la forza ok che tu puoi ottenere riuscendo ad essere neutra come persona e riuscendo anche a accettare un'eventuale perdita va bene perché sai che da piano divino non è per te da karma non è per te ti fa diventare una persona ok di un'energia imbattibile ragazzi ragazze eh se riusciamo a tirar fuori questa forza quindi chiedi guarigione questa situazione con questa persona tu che mi ascolti devi chiedere che sia guarita dall'alto chiedi l'intervento dall'alto dai il permesso all'entità di luce di operare su questa cosa però sappi che deve essere pronta o pronto ad accettare qualsiasi risposta che potrebbe essere anche non vedere mai più questa persona qui valuta tu come comportarti cosa sei disposta o disposto ad accettare però ne va della tua crescita ok perché sennò tenderai sempre a ripetere poi certi meccanismi comportamentali dannosi allora ho tirate tutte sì ok benissimo stesa due grazie mille lasciami un like al video iscriviti anche al canale se non ti sei ancora iscritta o iscritto guarda nell'info box tutte le mie info per parlare con me eccetera io proseguo eccoci qua la tre si era spostata un po allora perché ha scelto la piuma viola ricordo anche a te guardiamo quindi piuma viola l'energia diciamo oracolare dell'iching della saggezza cinese poi ti guardo anche a livello oracolare ma anche altri tarocchi e vediamo questa persona anche che cosa prova vediamo come si pone con te insomma quello che ci dicono e se c'è un chiarimento vediamo stesa 3 39 o 93 l'ostacolo allora qua abbiamo questo bellissimo fiore guarda questo bellissimo fiore che sta in mezzo qua quindi per andarlo a cogliere insomma la strada è tortuosa qua c'è qualcosa che non si riesce o a raggiungere l'ostacolo è molto grande insomma non c'è una libertà di movimento sembra qua vediamo cosa ci dice un abisso terrificante si accompagna a una vetta insormontabile pare non esserci via d'uscita il pericolo si accompagna alla paralisi occorre trovare un mezzo per vincere indirettamente questi ostacoli che fare è tempo di meditazione e consapevolezza eccoci qua allora meditazione consapevolezza qui la risposta arriverà dall'interno stesa 3 piuma viola qua ti arriva la risposta dall'interno te l'ha detto proprio eh perché qua l'ostacolo è grande la strada è dura credo che qua sia molto 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 difficile ok trovare come si possa fare per la tua situazione ricordo a tutti che è un interattivo siete tutti diversi l'energia è irreversibile e parliamo a tutti ok quindi qua per alcuni tanti o tantissimi o pochi di voi c'è un ostacolo insormontabile l'iching parla chiaro eh e ci dice che l'ostacolo ok può essere semplicemente scavalcato cioè riuscirai a superarlo solo con la meditazione e la consapevolezza quindi qua lavoro interiore non c'è scusa che tenga qua bisogna per forza trovare una risposta andando dentro cercando di neutralizzarsi neutralizzare a volte anche i sentimenti ok anche il come possiamo essere condizionati a livello esterno per trovare la neutralità necessaria a trovare poi una soluzione in meditazione ragazzi in meditazione arrivano le risposte ma me ne arrivano non so quante eh io ve lo consiglio vivamente vediamo vediamo adesso andiamo più sullo specifico della persona a cui pensi vediamo un po' se ci dicono questa persona a cui pensa che ha scelto la stesa 3 gruppo 3 piuma viola vediamo qua com'è la situazione a livello sentimentale emozionale amoroso vediamo un po' vediamo un po' tieni la mente aperta la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito allora beh qua ci possono essere anche sorprese quindi no appunto perché perché non si sa che risposta possa arrivarti allora qui o qualcuno chiede anche tanto per avere magari qualcuno qui c'è anche singole in mezzo qua che ascolta perché credo che abbia un po' rinunciato una parte di voi qua dentro ha un po' rinunciato ok a trovare la felicità cioè è come se dicesse no ma tanto ormai non ce la faccio più ok non posso più non sarà possibile questo qua ti dice ok intanto di andare dentro te stessa o te stesso tenere la mente aperta perché le persone qui potrebbero essere diverse ok qui o c'è stata una vita tua molto scandita sempre dalle cose quelle comportamenti quelli insomma fai così facciamo così quindi anche famiglie rigide voglio dire no anche questo tipo di cosa tipo di educazione quindi qua magari ti sei focalizzata o focalizzato solo su un certo tipo di persona che potrebbe essere adatta per te ma qua ti dice di no qua ti dice che potrebbero essere persone diverse adatte a te eh quindi vediamo un po' allora vediamo ancora la persona a cui pensi vediamo la persona a cui pensi vi ricordo che insomma interattivo questo parliamo di persone che non ci sono in questo momento in fase di allontanamento rottura eh vediamo che sentimenti provo cosa pensa di te questa persona cosa vogliono dirci le carte vediamo un po stesa 3 piuma viola questa persona a cui pensano eh in silenzio beh parte che era era per forza così con questo interattivo eh allora qua andiamo verso una schiarita devo dire eh qua molti sì allora qualcuno quelli che non sono in silenzio sono in qualche tipo di comunicazione piccola anche amichevole qualcuno devo dire la 3 eh quelli che stanno proprio in silenzio no ovviamente se c'è silenzio profondo tombale voglio dire no però qua andiamo incontro a un a un chiarimento già ci hanno risposto qua eh lo volevo far sotto la fila sotto se c'era un chiarimento qua c'è il chiarimento ragazzi la 3 c'è il chiarimento vediamo un po' se ci danno qualche indicazione andiamo incontro a diciamo anche una certa felicità una ripresa benissimo allora la 3 la 3 c'è una ripresa la 3 sistemano le cose probabilmente questo ostacolo troverà finalmente la soluzione troverai o troverete anche insieme alla persona ok anche se adesso c'è un allontanamento io vedo un riavvicinamento io vedo questo stupendo sole che porterà la schiarita tra di voi che vi farà parlare che andrà a illuminare con la sua luce questo bellissimo sole tutte quelle zone d'ombra che sono state tra te e questa persona e che non sono state sempre chiare ok vedo una certa anche felicità familiare in arrivo che non sia già qualcuno che avete già famiglia ok questa persona tornerà nella casa di famiglia c'è anche questa di risposta per avere finalmente un abbondanza ok non è subitissimo questa cosa io ho guardato 2-3 mesi ma abbiamo il fante di denari quindi comunque è sempre un po' lento come personaggio però insomma la risposta qua è molto affermativa sentimenti anche ne vedo qua dentro quindi pensiero per te i sentimenti lascia stare il silenzio e va bene per chi è in silenzio chiaramente perché qui dentro non tutti stanno in silenzio però insomma chi è in silenzio sappia che questa persona comunque tu sei nel cuore di questa persona assolutamente nel modo più assoluto e chi ha una famiglia questa persona rientra in famiglia chiarendo ok vedo una certa serenità una certa abbondanza di bella vita poi tra l'altro anche a venire qua si risolve ma si risolve per andare avanti diciamo non voglio di per sempre perché non è da me però qua è una bella è sistemata qua che date è la 3 molto bene devo dire prima viola è si chiarite chiarite per rispondere vediamo anche cosa ti direbbe se ti interessa un uomo oppure se tu che ascolti sei un uomo magari potrebbe essere le tue parole potrebbero essere però vediamo cosa ti direbbe qua l'energia maschile cosa direbbe spero non sia troppo tardi vedi che vuol che vuol che vuol tornare sono stato uno stupido ho capito di amarti qua non ti ho perso questo torna ragazzi qui è centomila volte ormai si è capito da da eoni allora qua probabilmente c'è qualcuno che ha capito che ha sbagliato è chiarissimo qua che ha capito anche di amarti io ti ho detto che c'era dei sentimenti e c'erano e li ho visti e spera che si possa recuperare ci dice questa energia maschile ha capito lo sbaglio ok se mai volevi sapere anche questo ce l'ha detto quindi io vedo chiarimento vedo anche un ritorno come ti ho detto prima già ancora prima di capire di vedere questi oracoli perché questi sono oracoli di una persona che vuol tornare c'è poco da sbagliarsi ragazzi e poi l'avevamo visto anche qui vediamo chi aspetta vediamo chi ascolta per una donna chi interessa una donna vediamo l'energia femminile invece cos'è che dice cosa dice l'energia femminile vediamo da questi messaggi da lei ormai ho smesso di soffrire per te la scelta giusta ero io non posso vivere senza di te però eccoci allora qua sempre un po contrastanti devo dire l'energia femminile perché perché da una parte quelli di voi che è molto tempo che la situazione è così c'è l'energia femminile che è quasi quasi che ormai si è abituata ok come dicevo prima qua all'inizio io credo qua che l'energia femminile sia stata cresciuta o in un modo molto rigido molto freddo sa quelle famiglie di quella volta no un po troppo poco affetto no ok poche dimostrazioni un po così mi sembra qua vedo un'energia femminile un po rassegnata come dicevo all'inizio perché perché probabilmente c'è stato qualche sbaglio da parte di questo uomo perché è stato stupido come diceva lui prima perché è giusta invece la donna no l'energia femminile ti dice che lei era quella giusta tu hai sbagliato ok quindi però dentro di lei al di là di tutto quello che che dice ok o che pensa dice che non può vivere senza di te quindi comunque capisce questa donna nonostante magari la sofferenza sia più lieve di un tempo nonostante l'aver realizzato comunque sia l'errore che ha fatto l'altra persona non lei che ha fatto l'altra persona che ha detto anche tra l'altro prima l'energia maschile ci ha detto che è stato uno stupido ok quindi qua ci dice non posso vivere senza di te la donna comunque è un po così è strana la donna è molto giù è la donna la vedo più giù più giù di lui lui sembra un pochino più l'energia maschile diciamo sfumeggiante più più convinta più energetica ed è energica anche nel voler riapprocciare la donna la donna sta un po più strana devo dire vediamo per te dai miei oracoli divini canalizzati un messaggio vediamo un po un messaggio per la piuma viola la stesa 3 qual è il messaggio qua da dare qual è il messaggio da dare realizzazione intuizione potere personale agisci ora andrà tutto bene 2 22 222 tutta una serie di due ragazzi è qua allora c'è in arrivo per te oggi tutte intuizioni abbiamo qua in un qualche modo probabilmente il cielo e gli esseri di luce l'altro velo qua si stanno proprio devo dire muovendo molto velocemente sulla terra perché stanno veramente dando un sacco di intuizioni stanno portando una schiarita in tantissime persone c'è un lavoro fortissimo anche dal re amangelico in questo periodo per riuscire ad aiutare veramente tanto per accelerare l'ascensione ok del pianeta terra e quindi aumentare la nostra energia cercare di farla vibrare più in alto in modo da passare poi alla quarta quinta dimensione ok qua dice di agire ok qui ti conviene muoverti qua c'è una realizzazione le tue intuizioni probabilmente sono anche giuste quindi se senti di dover fare un qualcosina un passo un piccolo movimento fallo ok qua c'è potere personale qua sei sei più di quello che pensi qua qua forse chi ascolta un po' scoraggiato sento fortemente qua dentro la tre è in realtà hai molto potere hai molto più spazio per giocare se vuoi qua ce l'hai per muoverti devi credere più in te stessa o in te stesso nella tre devo dire perché comunque c'è per te uno splendido arrivare quindi è bella questa stesa è più ma viola ok quindi mi raccomando non essere troppo titubante va bene troppo non farti vincere troppo dall'incertezza qua devi osare devi provare andrà tutto bene agisci ora ok se vedi molti due sai che è un giorno giusto sai insomma se c'è qualche campanello con questo numero due non so qualcosina ti viene a dire sto numero quindi vedi tu ok più ma viola stesa tre ti ringrazio lasciami il like al video iscriviti anche al canale attiva la campanellina allora io ricordo a tutti nell'info box trovate comunque i miei riferimenti va bene per parlare con me i siti web tutto quanto chi vuole acquistare ragazzi ragazze questi qua perché me l'avete chiesti vi ricordo andatevi a guardare il video anche di presentazione che lo trovate proprio appena aprite il mio canale li trovate proprio lì e poi volendo io con l'energia del re che a distanza li carico ancora un'altra volta ok sono già con l'intenzione già caricata però chi vuole mi può scrivere all'email che vedete comunque in sovraimpressione o anche se tutto nell'info box trovate tutto ragazzi mi raccomando ve li carico anche a distanza ok per acquistarli se vi piacciono allora che dirvi grazie sempre a tutti per le iscrizioni per le dimostrazioni d'affetto per chi parla con me in privato grazie a tutti vi aspetto presto in un prossimo interattivo